ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi faccio vedere qui che ho recuperato questa saga in dvd ed è star wars la saga la trilogia con il capitolo 1 2 3 la minaccia fantasma l'attacco dei ciloni la vendetta dei sit saga che ancora non ho visto e che devo recuperare vivi un'avventura è più epica qui c'è alcune immagini film cofanetto 3d spi la minaccia fantasma per tutti gli altri andiamo a vedere il cofanetto eccolo qua e andiamo a vedere il cofanetto qui c'è questo volantino con tutti e tre capitoli e qui c'è star wars 1 la minaccia fantasma star wars 2 l'attacco dei croni e star wars 3 la vendetta dei sit e niente ragazzi questo era il cofanetto di star wars mettetevi a ci commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli